ah vorrei fare un bel video ma non so se ah ma è partito il video comunque bello a tutti ragazzi qua e nicolas che vi parla ed oggi siamo nuovi video ragazzi come sempre nuovo video ragazzi news 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 mi sono scordato di fare il vlog del pomeriggio quindi adesso questo la super news ragazzi dopo posto questo video posterò subito un altro riuscito il baule magico ragazzi baule magico posso trovare o lo stregone o il mastino lavico ragazzi speriamo che troveremo ragazzi lo spacchettamento io lo gemmerò quindi farò il video solo del baule quello e dei baule non avrò tutte le perché ragazzi non avrò tutti i baule perché non posso aspettare io faccio subito ragazzi ho il baule magico adesso posto questo video e posterò l'altro video ragazzi io lo gemmo perché ho 24 gemme adesso stava 57 l'ultima volta che l'ho visto spero che sta minimo a 50 o 55 ragazzi che devo dire da un negocio di tutto ciao ragazzi mua